Faccio una premessa, Striscia Notizia come produzione è talebana. Il ciclo produttivo che noi seguiamo a Striscia è un ciclo produttivo rigoroso proprio perché noi dobbiamo essere rigorosi, se no saremmo incoerenti e quindi saremmo oggetto di segnalazioni, di servizi di altri programmi contro Striscia. A Striscia lavorano più di 150 persone, quindi è un treno con 150 vagoni da spostare. Allora Alberto come fai a gestire questo programma, questo grande casino? Noi abbiamo un ufficio che si chiama SOS Gabibbo che è al momento presidiato da 5 persone che si turnano dove arrivano le email. In questo ufficio si vengono lette tutte le segnalazioni. Queste segnalazioni vengono scremate e vengono passate a una redazione che ha una competenza un po' più specifica, un po' più di preparazione. In quest'altra redazione sono in tre che ricevono la scrematura delle segnalazioni, le riguardano e scremano ulteriormente queste segnalazioni. Vengono date agli autori che inviano queste segnalazioni ai vari inviati. Noi alle 12 e mezza facciamo questa riunione di scaletta per determinare, con Antonio Ricci, sempre presente, il contenuto della puntata della sera. Però ogni giorno gli inviati fanno dei servizi. Di quelli realizzati noi teniamo conto per la scaletta. Quindi per quello è un serpente che si morde la coda. Noi facciamo la riunione mentre gli inviati hanno già fatto dei servizi, mentre noi facciamo la riunione e ne fanno altri. Quindi il giorno dopo noi faremo una riunione e avremo a disposizione i servizi nuovi. Beh, è chiaro che non potete vivere senza magazzino. Assolutamente, infatti quando non ce l'abbiamo, sai, rischi di aonacquarla puntata perché butti dentro un servizio all'altezza, rischi di essere corto. E dopo questo? I premontati che mandano gli inviati di 8-10 minuti vanno tirati a 3-4. Quindi i montatori con gli autori fanno i tagli. Beh, questo che cosa significa? Che i ragazzi che sono fuori montano, no? Si fanno un premontato del servizio probabilmente, è così? Che ho dato a ciascun inviato una sua troupe. Cosa succede? Che questi inviati, che sono tutti liberi professionisti, hanno fatto una società, un appalto di servizi, si sono presi la loro troupe e io pago a loro l'appalto della loro troupe. Perché il lavoro degli inviati di attenzione non ha orari, non ha convocazioni. Tu puoi ricevere un inviato, tu puoi ricevere una telefonata alle 6 del pomeriggio e uscire per dare il servizio per lei a 8 e mezza. Quali sono le possibilità, le probabilità di diventare, che ne so, un nuovo staffelli? Come ci si riesce ad avvicinare a striscia? È l'inviato che dà qualcosa a striscia, non il realizzatore. Voglio dire, a uno può piacere l'inviato X piuttosto che l'inviato Y, possono non piacere tutti gli inviati. Però è l'inviato che caratterizza striscia. È per quello che l'inviato è difficile che si cambi. Non è tanto la realizzazione registica, quanto il contenuto. Per quello è molto meglio essere inviato, cioè è molto più facile fare l'inviato. Perché l'inviato va dentro del contenuto, va a chiedere a Ippolito perché hai, che ne so, pagato quei soldi per corrompere quel funzionario. Capite? Quindi ci vuole la faccia per fare queste cose. Il direttore di una rete, il direttore di canale 5, di rete 4, di taglia 1, il direttore è responsabile penalmente di quello che va in onda sulla sua rete. Per quanto riguarda striscia, la responsabilità penale di tutto ciò che succede a striscia se la becca e se la beccherà Antonio Ricci. Questo sicuramente da un lato gli dà una grande autonomia, però dall'altro anche un sacco di preoccupazioni, insomma di responsabilità. A fronte di questo sì, ti confermo che tutti i giorni io almeno due o tre servizi li devo andare a guardare per intervenire o con blerature o con tagli. E Antonio ti ascolta? Sì. Sì, mi ascolta perché... Ragazzi, Antonio Ricci è un personaggio molto particolare, no? Sì, sì. Mi ascolta, vabbè, per una questione di buon senso. Perché se io ti dico una cosa, quella cosa che ti dico o puoi scartarla o puoi considerarla. Meglio che te la dica. Hai un dato in più. Ma mi ascolta ancora di più a livello legale perché siccome lui per anni viaggiava in tutta Italia non per turismo, per querele, per tribunali. Vedevi i tribunali e tornava a Milano in aereo. È stufo. Allora ha detto se non è più che necessario vediamo di tamponare il numero esagerato di querele che raggiungono striscia a tutte le edizioni. Il produttore esecutivo è quello che ha i cordoni della borsa, dell'azienda, rispetto a un programma. Cosa succede? Che l'azienda decide di fare un programma, decide di fare striscia la notizia, prende un Alberto Salaroli e gli dice Alberto Salaroli tu sei produttore di questo nuovo programma, fammi sapere quanto costa. Nel momento in cui gli faccio sapere quanto costa che mi dice va bene, spendiamo sti soldi, io devo fare in modo che questo programma costi quello che ho anticipato io all'azienda e che sia quello che l'azienda si aspetta. Insomma, da te viene anche il direttore della fotografia che ti chiede che ne so 50 kilowatt e tu dici no, no, io te ne do 30 perché 30 kilowatt ti bastano. Questa competenza tanti non ce l'hanno, è vero che l'acquisiscono, è vero che l'acquisiscono e l'acquisiscono a posteriori perché? Perché un giorno dicono al direttore della fotografia no, no, guarda non c'ho i soldi per farlo con 50, non puoi farlo con 30. Eh, vabbè, facciamo una con 30. Perché? Perché scopri che il direttore della fotografia giustamente è un professionista per far bella figura e come Ippolito chiede 9 elefanti lui chiede 50 kilowatt adesso il direttore della fotografia la prima richiesta è una richiesta quindi per questo tipo di meccanismo gliele abbassa poi piano piano scopre che 30 kilowatt di luci per fare quel set che vanno bene la prossima volta che viene uno a dirgli voglio 50 kilowatt lui glielo dice perché sa che bastano 30 kilowatt prima per tagliare adesso perché lo sa quindi è un'esperienza che comunque ti fai lavorando. Se tu guardi alle tue spalle adesso sono un po' di anni che fai questo mestiere eh sì sono 23 che consiglio dai loro? Non mollate perché la comunicazione adesso sta decuplicando perché ci sono le satellitari che ci fanno un culo così c'è internet ci sono un sacco di forme adesso che credo vi hanno ancora più speranza rispetto a prima prima c'era solo la televisione analogica generalista e lì andavi a andare se no stavi a casa tua non ti conosceva nessuno quindi nel caso non demordete non abbiate problemi ad aspettare perché questo è fisiologico ma ciao 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 ciao